per la vita ci siamo sempre intanto ecco io vorrei proprio ringraziare personalmente dal profondo del cuore tutte le persone che credono in questa associazione da quando è nata oramai festeggiamo i 30 anni quindi abbiamo realizzato tanti progetti in tutta Italia e non solo e la cosa che proprio più mi colpisce e mi fa piacere è proprio che ci siamo una comunità di donatori che credono in quello che facciamo e penso che giornate come queste siano fondamentali per dire grazie 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 perché ancora credete in noi e insomma noi finché ci sarete voi andremo avanti per la nostra strada direi proprio in maniera comunitaria per realizzare ancora tanti progetti insieme quindi grazie di cuore